Musica Al numero verde istituito dall'unità di crisi regionale per lo screening scolastico sta telefonando chiunque per sapere del suo tempone per spiegare che ha la febbre e chiede dei consigli. Il numero è solo per lo screening, non per altre informazioni. L'assessore all'istruzione della regione Campania, Lucia Fortini, spiega i problemi che sta avendo il numero 800, 814, 818 per prenotare il tampone per i bambini e il personale scolastico in vista della ripresa della didattica in presenza per il 24 novembre. Gli operatori, spiega Fortini, mi dicono che su circa 6.000 chiamate, finora il 70% non è per lo screening della scuola. Chiamano per sapere l'esito del tampone, per dire che hanno la febbre e vorrebbero un controllo medico. Quegli operatori non hanno dati sui tamponi e non sono dei medici, quindi quella linea va lasciata solo per la prenotazione del test, dichiara l'assessora, provando a dare una spiegazione a ritardi alle elementi di molte famiglie. Dobbiamo fare uno screening, spiega, e lo faremo se ci metteremo qualche giorno in più, non cambierà molto. L'importante è che riprendiamo la scuola guardando prima di tutto al diritto alla salute, visto che siamo in una pandemia. La riapertura delle scuole dipenderà dai tali dello screening che saranno esaminati dall'unità di crisi. Se avremo un tasso di bambini e insegnanti positivi alto e sentiamo che non è garantita la sicurezza a scuola, immagino che l'unità di crisi possa rivedere la scelta di riaprire. Di sicuro non entremo allo sbaraglio, precisa l'assessore. La procedura di screening è strategica per la ripresa, ci darà il quadro della situazione, ma la ripresa non è obbligatoria. Noi abbiamo chiuso per primi, poi hanno chiuso anche in molte altre regioni, quindi avevamo ragione e ora ponderiamo. Questo è un messaggio che mando anche alle madri che ci dicono di non riaprire. Mi chiedo dov'erano quattro settimane fa quando si svolgevano le manifestazioni in strada contro la DAD. Capisco che ci siano genitori preoccupati, ma a tutti ripeto però che torneremo in aula se ci sarà la sicurezza per farlo. Mi dispiace sentire che usiamo i bambini come cavia. Ci muoviamo prima di tutto sulla tutela della salute. Per la scuola dell'infanzia non ci saranno problemi perché non è un obbligo. Per la primaria troveremo delle soluzioni per non costriccere nessuno. Qualche dirigente scolastico, un clube fortini, sta provando a orientarsi a una didattica missa. Ci avevano provato anche quando le scuole erano aperte con i bimbi in isolamento, a fare fare loro qualche ora a distanza. Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che in assenza di un pronunciamento formale della Regione Campania non è possibile procedere all'avanzamento dell'istruttoria per l'istituzione del Parco del Matese, anche perché i contributi che pervengono da parte degli enti locali campani non arrivano in modo coordinato. Allo stesso tempo il Dicastero ha accolto la nostra sollecitazione a convocare un tavolo di concertazione con i sindaci sanniti i cui territori sono interessati alla perimerrazione del Parco del Matese, richiesto attraverso la provincia. Al più tardi questo incontro si terrà la prossima settimana. È un incontro necessario perché ancora una volta, scrive il portavoce del Movimento 5 Stelle Pasquale Maione, dobbiamo sopprire alle inadempienze della Regione Campania che persevera nel non inviare al Ministero le osservazioni sulla perimerrazione del Parco. Ad oggi le uniche informazioni giunte al Dicastero sono quelle della provincia di Benevento. La Direzione Generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell'Ambiente sta continuando a sollecitare la Regione Campania. L'ultima nota in ordine di tempo risale al seno e in prescorso. Peraltro gli uffici del Ministero hanno inviato all'autorità regionale anche il contributo pervenuto dalla provincia di Benevento. Ricordiamo che l'assoluto immobilismo del Governo regionale non solo provoca un rallentamento in tutto il procedimento, ma dei fatti danneggia il sangio perché blocca le opportunità e le potenziali ricadute positive che l'istituzione del Parco potrebbe determinare per il nostro territorio. È una situazione paradossale che non trova spiegazioni se non nel disinteresse nella sciatteria di questa amministrazione regionale, ormai in grado di distinguersi solo per inefficienza. La nota, come detto, è del portavoce del Movimento 5 Stelle Pasquale Maione. Grazie a tutti.